A Terra Nuova a Bracciolini, interessante è stata la stagione alle Fornaci che adesso presenta nell'ultimo fine settimana spettacolo di musica e di teatro. Una stagione ricca e interessante quella che si è tenuta fin qui alle Fornaci di Terra Nuova a Bracciolini. La scorsa settimana c'è stato Sguardi Surreale e devo dire che è stato un festival molto interessante e partecipato e quindi ringrazio MACMA, Valdanno Culture perché hanno saputo in questa edizione coinvolgere tutte le associazioni del territorio, non soltanto di Terra Nuova e quindi questo ha fatto in modo che anche la cittadinanza partecipasse in modo più importante rispetto agli altri anni. C'è stato venerdì la scena itinerante, è stata una bella serata e quindi le ringrazio per un segnale di partecipazione e della ricchezza del mondo associativo che ci rappresenta. Venerdì abbiamo il concerto di musica classica a cura dell'Accademia Barocca di Arezzo che si terrà però all'Aula Consiliare, mentre domenica all'Auditorium ci sarà lo spettacolo teatrale I Cavalieri di Aristofane. Parliamo con Simone Martini. I Cavalieri sarà l'ultimo spettacolo della stagione delle Fornaci, è una produzione nostra, Cante Strasse, è un primo studio, un debutto assoluto, con la regia di Fulvio Coteruccio, in scena ci saremo appunto io, Simone Martini e Alessio Martinoli. Abbiamo scelto un testo che è più classico come si può, la nascita della commedia ed è un testo anche molto contemporaneo. Le tematiche affrontano un po' quello che è uno dei mali universali della nostra società, la corruzione politica. Infatti già nell'antica Tena, appunto dove è nata la democrazia, già gli autori, le persone si interrogavano sulla corruttibilità delle cariche pubbliche. E quindi Cavalieri è un viaggio attraverso questo mondo, in forma di satire e commedia, elaborato e cercato di attualizzare.